Siamo qua con l'onorevole Marco Scuria che è venuto a trovarci. Le marche per ripartire hanno bisogno di un'ottima squadra ma hanno bisogno anche di quelli che sono i rapporti con le istituzioni sovranazionali, l'Europa. Marco è un'area parlamentare che da ormai qualche mese dopo la sua elezione frequenta spesso la nostra regione e cerca di colmare quel gap che si è creato in questi anni per l'assenza della presenza delle istituzioni regione che non ha saputo collegare il giusto rapporto tra le opportunità che ci sono qua e l'Europa. Noi confidiamo molto Marco in te perché in questi mesi ci hai dato già molte opportunità, ci hai sostenuto in maniera determinata e ci hai dato quella possibilità di conoscere quello che realmente l'Europa rappresenta in termini di sviluppo, in termini di unione tra tradizione e futuro. Sì, allora il fatto di essere qui non è un caso, io vengo spesso in questa regione, mi sento anche un po' adottato da questa regione, ne sono contento perché questa regione ha bisogno di Europa, ha bisogno di fondi, ha bisogno di iniziative, ha bisogno di saper sfruttare le opportunità che questa maggioranza che ha governato la regione Marche fino adesso non ha saputo fare ed è per questo che sono qui per raccontarla alle persone, alle categorie, ai comuni per far capire quali davvero grandi opportunità ci sono e c'è bisogno di persone giovani come Francesco Acquaroli all'interno del Consiglio regionale per poter intercettare queste risorse, avere il giusto dinamismo e il giusto radicamento all'interno di questa regione e c'è bisogno di una persona come Marinella che faccia il presidente di questa regione perché è una persona che viene ovviamente dalla società civile, è un professionista, è una persona che sa dove mettere le mani, è una persona che sa automaticamente rendere questo territorio vivibile e a dimensione umana e delle persone che ci abitano.